Benvenuti, sembra ieri, sette anni fa, sempre ieri, sette anni fa, ipotizzammo su un'idea originale del Presidente Violante di istituire questa scuola di politica che aveva un obiettivo molto chiaro e molto preciso, quello di ampliare l'orizzonte di chi partecipasse e soprattutto di darsi un tema preciso, quello di dare dei messaggi a che si potesse conoscere per poter decidere. Dicevo, sembra ieri, è cresciuta in questi anni e posso anche dirvi che oltre a voi presenti abbiamo oggi dieci hub, se non sbaglio, collegati in tutta Italia che seguono queste lezioni, che poi chiamano lezioni per modo di dire ma sono esclusivamente degli interventi magistrali ai quali poi nel pomeriggio, non oggi ma dalla prossima lezione, nel pomeriggio ci saranno i tutor, ci sarà un momento di confronto. Io mi fermo qui e lascio immediatamente spazio al Presidente Vittadini e poi ascolteremo il Presidente Violante che ci intratterrà. A te Giorgio. Allora, il motivo di quest'anno che è l'Europa, che non è solamente la questione ovvia delle elezioni europee, ma è una questione più cruciale, più generale, che è interessante per chi sta cominciando ad avviarsi all'interesse politico, giustamente perché, come dire, una democrazia sta in piedi nella misura in cui c'è un interesse di base e il fatto che nelle democrazie stia diminuendo la partecipazione al voto, che è l'espressione, diciamo, più oggettiva dell'interesse, certamente non è un fatto positivo e, d'altra parte, il Presidente Violante oggi parlerà proprio di questo tipo di aspetto. Ma perché l'Europa? Perché anche coloro che fossero contrari, che si manifestano contrariamente all'Europa, non possono prescindere da questa dimensione. Perché oggi è impossibile, anche di fronte agli cambiamenti geopolitici che sono in atto, pensarsi come paese singolo. Il paese singolo è un paese che sarà schiacciato. Da una battuta di Enrico Letta, che io ripeto spesso, lui diceva che l'Italia era un paese grande in un mondo piccolo, oggi è un paese piccolo in un mondo grande. Certi problemi non possono essere affrontati, se non insieme. E il primo aspetto che io sottolineo sempre, proprio dall'esperienza, non da esperto, è che se noi siamo, io e voi, la prima generazione dopo duemila anni che non ha visto la guerra in Italia, è perché c'è stato questo sistema, sia di struttura europea che anche insieme agli istituiti di alleanza, tale per cui ciò che avviene in Ucraina, ciò che è avvenuto in Jugoslavia, ciò che avviene in Medio Oriente, da noi non può avvenire, speriamo anche in futuro, proprio per l'essere insieme. Se no, le tensioni che ci sono avrebbero certamente portato, se non fossimo Stati Uniti, a qualcosa di simile a quello che è avvenuto, che sta avvenendo purtroppo in una parte dell'Europa, perché l'Ucraina è Europa. Quindi il fatto stesso che ci sia questa unione ha, come dire, un'importanza fondamentale, fondamentale, quasi come l'aria di cui ci si accorge quando non c'è più. Però siamo in un momento di grave passaggio e nel nostro corso cercheremo di vedere proprio gli aspetti di questo tipo che sono problematici. Il primo, e vediamo che c'è un filone in tutto questo, lezioni, che è il cambiamento degli equilibri geopolitici mondiali. Non è più, come prima del muro, l'esistenza di due blocchi che, diciamo, nel terrore, però si equilibravano e rendeva impossibile una guerra mondiale dividendosi i paesi, poi c'era ancora fortissimo il terzo mondo, e casomai purtroppo comunque avendo conflitti in cui erano dietro ma non erano generali, ma non abbiamo più quello che si pensava nel 1989, la fine della storia di Fukuyama e il dominio americano, ma abbiamo grandi blocchi, gli Stati Uniti stessi, la Cina, la Russia, i paesi emergenti, che stanno contendendosi l'economia, l'egemonia politica e economica a livello mondiale. E allora bisogna capire cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo? Perché capirlo vuol dire qualcosa che ha a che fare con la vita quotidiana di ciascuno di noi, con la possibilità di lavorare, commerciare, muoversi. Non sono temi teorici, sono temi che sono profondamente incidenti sulla vita quotidiana, sull'economia, sul lavoro, sullo sviluppo. Il mondo è interattivo, nel momento in cui nascono tentazioni protezionistiche oppure espansioni commerciali cambia l'equilibrio e la vita quotidiana di molta gente. Quindi questo è un primo grande tema, il primo filone, ma di fronte a questo la domanda è che cos'è l'Europa. Che cos'è l'Europa dopo che è nata certamente su posizioni ideali fortissime, perché se voi vi consiglio di andare a vedere i discorsi dei costituenti, anche solo il nostro De Gasperi, piuttosto che gli altri costituenti degli altri paesi, di Schumann, Adenauer, eccetera, la dichiarazione di Ventotene, la grande forza ideale, l'espansione che ha avuto, essendo capace di favorire una transizione dopo l'89, che non fosse distruttiva. Tutti noi che viviamo allora pensavamo che la fine del blocco sevetico avrebbe voluto dire guerre, invece proprio l'esistenza dell'Europa ha fatto sì che le transizioni dei paesi dell'est, forse le transizioni pacifiche, è arrivando a un allargamento per il desiderio di partecipare a questo. Ma oggi, per esempio, per fare alcuni esempi di cose che saranno affrontate in questi giorni, noi in questo ciclo abbiamo un'antinomia non risolta, l'unanimità che rende impossibili quasi le decisioni e dall'altra parte la necessità di garantire la sovranità degli stati. Come si fa? Quali sono gli organi che governano l'Europa? Qual è la transizione? Il Parlamento europeo? La Commissione? Il Consiglio? Chi deve governare? Come si può risolvere questo problema che sembra irrisolvito? D'altra parte capite che se non si decide, come si può essere in questi momenti in cui si chiede ogni giorno una posizione sulla Palestina, sull'Ucraina, sui rapporti con questi paesi in modo sicuro. e quindi c'è tutto un primo filone, che è un filone istituzionale, che sarà affrontato con il punto di partenza che è affrontato oggi dell'idea della democrazia, dell'idea che l'Europa è comunque un sistema democratico, in un mondo in cui i cambiamenti geopolitici sono anche cambiamenti di autocrazie. e poi ne parlerà benissimo Luciano oggi, certamente, ma il tema è questo, perché evidentemente le democrazie che decidono. Ma poi c'è tutto il tema economico, economico e sociale. Noi abbiamo una unità parziale monetaria a fronte di politiche fiscali diverse, a fronte di sistemi di rapporto tra Stato ed economia diversi e quindi sia dal punto di vista dello sviluppo economico, sia dal punto di vista dello sviluppo sociale abbiamo grandissimi problemi irrisolti. Perché lo vediamo quando vengono fuori i problemi delle aziende che si spostano dall'Italia all'Olanda, all'Irlanda, a quando si compete in termini di settori strategici dell'energia e di altro che si marcia veramente divisi. Quindi c'è un secondo grande tema interno all'Europa che è il tema dell'economia, e se vogliamo un terzo, il tema sociale, perché questa situazione è anche una situazione in cui esistono enormi disuguaglianze. Noi ne abbiamo una nel nostro Paese irrisolta, ma ce ne sono molte ed evidentemente un'unità tende a migliorare questi aspetti. E terzo problema, la questione della difesa comune, che evidentemente non è per una idea violenta di espansione militare, ma di difesa, col problema del rapporto tra Nato e Unione Europea, che per esempio nella crisi ucraina ha mostrato i problemi sulla necessità di partecipare a questo. E se vogliamo, ultimo aspetto fondamentale che tocca anche molti di noi è tutto il tema della scienza, dello sviluppo, della ricerca, della conoscenza. Molti di noi, perché molti di voi sicuramente hanno fatto l'Erasmus, hanno già verificato, cosa voglia dire, la possibilità, o magari la tesi all'estero, di avere confini che non sono quelli interni, ma questo vuol dire l'Europa può essere un incubatore di tecnologia di sviluppo che compete, per esempio, con gli Stati Uniti, proprio perché lavora su questa unità. Ecco, questi sono i temi che si vuole affrontare in modo tale che alla fine uno abbia l'idea più chiara per seguire le piste che vogliamo. Cioè, gli interlocutori che sono in questo, i professori, quelli che insegneranno, sono il meglio che c'è in giro, sono anche, secondo uno schema pluralista, non è un unico pensiero, vedrete, come anche già l'anno scorso, delle differenze di posizione tra chi viene, ma il fatto, come diceva il Presidente Iannuzelli, del dialogo, del fatto che molto dello spazio di questi incontri sarà fatto a gruppi, a lavoro, a ripresa, anche oggi sarà così, ma sarà gestita direttamente dalle professoresse Allange e Greco nel pomeriggio, ma poi dice di questa possibilità. Poi, per aiutare, l'ultima cosa che voglio dire è che evidentemente sarà a disposizione vostra sia lo streaming, sia anche una sbobinatura, diciamo, rozza, veloce, fatta con l'intelligenza artificiale, in modo tale che uno abbia sotto i testi, non i testi ancora editati, ma che possa riprendere, anche poi, se magari non può venire in qualche elezione, possa comunque usufruire questo. Ci ho detto, lascio la parola al Presidente Violanti, che ringrazio, perché è l'idiatore di questo, proprio sette anni fa, e ogni anno ci ha dato il là su questioni che allargano l'orizzonte. Per cui, lo ringrazio del lavoro e anche della possibilità di questa nuova... Io ringrazio voi per essere qui, per l'invito. Noi ci spettiamo. Prima però vorrei... Prima però vorrei leggervi un messaggio. Il messaggio dice questo. Il mio messaggio, se dovessi essere ucciso, è semplice. Non arrendetevi. E una cosa molto ovvia da dire. Non avete permesso di arrendervi. Se dovessero decidere di uccidermi, vuol dire che siamo incredibilmente forti. Dobbiamo utilizzare questo potere per non rassegnarci, per ricordarci che siamo un grande potere che è stato oppresso da questi ceffi. Ci capita di non avere davvero la consapevolezza di quanto potere abbiamo, di quanto possiamo essere forti. L'unica cosa che serve al male per trionfare è che il bene non faccia nulla. Quindi non siate inerti. Il messaggio dell'ex Enavaldri, ucciso ieri in un carcere siberiano. Vi prego un momento di riflessione. Per non essere inerti. Grazie. Allora, oggi parliamo dell'Europa e mi viene di pensare a una cosa che mi è capitata molti anni fa. Dopo l'assassino di Piola Torre, il mio partito mi mandò in Sicilia per organizzare la lotta politica alla mafia. in una delle prime iniziative in un paese siciliano vede un grande manifesto Luciano Violante la lotta alla mafia in Sicilia e in Italia. E chiamò il segretario della federazione Scusa, perché in Sicilia e in Italia? Questa regione non è la stessa cosa? No, sa, per noi c'è la Sicilia poi c'è l'Italia. Discutemmo perché siciliano sa cosa vuol dire questo nella storia, nella cultura siciliana ma noi a volte faticiamo lo stesso per l'Europa in Italia e in Europa. Cioè l'Europa è sentita da noi che è qualcosa di non ancora nostro, no? e non ancora complessivamente nostro. Allora, quando parliamo di Unione Europea di cosa parliamo? Parliamo di 27 paesi che parlano 24 lingue diverse che non sono omogenei alcuni sono prevalentemente industriali altri sono prevalentemente agricoli altri sono misti. In Europa ci sono regni repubbliche presidenziali repubbliche parlamentari sistemi elettorali maggioritari sistemi elettorali proporzionali ma c'è quasi dappertutto come dire faccio una riserva sull'Ungheria quasi dappertutto democrazia e questo è come dire credo che sia l'unico continente le Americhe non hanno questa caratteristica l'Asia non ne parliamo l'Africa ne parliamo e così via e questo è un dato abbiamo una moneta unica possiamo viaggiare senza limitazioni da un paese all'altro guardate che unificarsi non è facile gli Stati Uniti hanno fatto una guerra civile per unificarsi Scozia e Irlanda ancora adesso non si è capito bene quale sia il rapporto tra Gran Bretagna e Scozia e Irlanda l'unificazione tedesca è stato un processo difficile prevalentemente economico e politico non è stato perché dopo la caduta del muro di Berlino si pose immediatamente i problemi della unificazione della Germania con qualche riserva ricordo che Andriotti disse io amo molto la Germania l'amo talmente che ne preferisco due ne due piuttosto che una sola il problema è che tutti avevano paura che poi la Germania come potente potenza industriale potesse poi riprendere corsi che nella storia erano stati negativi questo per ecco le grandi questioni europee si possono dividere in due assi una che va da nord a sud ed è il conflitto tra responsabilità economica e solidarietà economica i paesi del nord sono per la responsabilità economica i paesi del sud sono per la solidarietà economica naturalmente ci sono questioni egoistiche dietro a questo nel senso che i paesi del sud in genere spendono più di quello che possono e i paesi del nord non gradiscono che debbano essere proprio i propri contribuenti a pagare le spese dei paesi del sud questo è un problema grave l'altro conflitto l'altro asse è un asse che va da est a ovest o da ovest ad est e che è il rapporto tra sovranità nazionale verso nazionalismo i paesi dell'est sono in generale nazionalisti i paesi dell'ovest sono generalmente più diretti verso una sovranità europea verso un'accoglienza ecco primo concetto fate primo concetto l'unione europea non è una monade sta nel mondo tante volte noi quando parliamo dell'unione europea ne parliamo come si trattasse di un pezzo geografico espunto dal mondo in realtà sta nel mondo con tutti i problemi che è il mondo le guerre adesso poi vedremo altre cose eccetera il tema che mi avete segnato è la post-democrazia che cosa vuol dire la post-democrazia e perché è una sfida per l'Europa post-democrazia è il titolo di un libro che ha scritto uno studioso inglese crunch che adesso è un po' datato però se avete voglia di occuparvi di queste cose magari un'occhiata vale appena darla lui dice una cosa molto interessante dice guardate che ormai le democrazie tradizionali si reggevano su alcuni assi il Parlamento il Governo la Magistratura su questi assi cioè il potere decidente era legato a questi tre grandi soggetti ormai intervengono altri soggetti che non rispondono a nessuno ma che hanno una capacità di direzione politica e di conozionamento molto più forte dei governi è molto più forte dei Parlamenti chi governa sono i grandi gruppi di interesse finanziari tecnologici e mass media perciò l'applicazione di regole democratiche senza capire che ci sono questi problemi sotto rischia di essere un paravento secondo questa teoria politica sostanzialmente ci sarebbe un'oligarchia o delle oligarchie che condizionano fortemente il governo volevo ricordarvi una cosa il 31 gennaio giorni fa il senato americano ha convocato tutti i capi delle sette grandi potenze del digitale per un problema è stato denunciato il sindaco di New York ha vietato proprio ieri mi pare l'uso del digitale ragazzi minori di età X così ha fatto governatori di altri stati io facendo il giurista da più di 60 anni francamente ho grande sospetto per la regola devo dirvi non ci credo molto credo alla pedagogia all'educazione guardate la regola viene fuori sapete quando? quando manca la morale quando manca l'etica allora c'è il diritto che interviene perché non c'è nessuna norma a chi vieta di mangiarsi prossimo perché è eticamente corretto non mangiarsi vicino di casa ma se domani qualcuno comincia a mangiarsi vicino di casa perché manca l'etica viene fuori una regola ecco io sulle regole sono un po' così ma il problema quale è stato? è stato che lì c'erano tutti quanti i familiari delle vittime di ragazzi che si sono uccisi facendo quei giochi cretini lo strangolamento eccetera si fanno molti ragazzi sono scappati di casa e non si capisce dove stanno per effettuare i social Zuckerberg ha chiesto scusa con le lacrime degli occhi tutti quanti hanno chiesto scusa perché c'erano i familiari la hearing ma poi quando qualcuno ha cominciato apposto a porre il problema della regolazione c'è stato un no complessivo perché la regolazione avrebbe soffocato la produzione qui c'è un problema delicato anche in Europa non so se ne parlerete in qualcuna di singoli cose l'Europa come sapete ha progettato una regolazione nuova molto interessante per alcuni aspetti forse un po' ambiziosa per altre però molto interessante proprio sulle regole sull'uso di queste cose lì qual è la più importante oligarchia è quella digitale pensate che Microsoft Google e Amazon per citare le più grandi contrarono il 64% del mercato cloud infrastrutturale Microsoft ha circa il 90% di sistemi operativi per server e PC nel mondo e GCC Office che il pacchetto che tutti ne usiamo il pacchetto software più diffuso il 92% delle nostre caselle di posta elettronica è cito Microsoft Apple Google nel 1980 le prime 5 imprese USA in termini di capitalizzazione erano attenti IBM Exxon General Electric e T&T Free Morris nel 2020 erano Apple Microsoft Amazon Alphabet Facebook nello stesso anno inoltre ciascuna delle 5 maggiori compagnie tecnologiche valeva più delle 76 maggiori società energetiche messe insieme una Amazon per dire valeva più delle 76 compagnie energetiche messe insieme questi sono gli oligopoli gli oligopolisti hanno le mani persone imprese e stati questa è la forza girassero l'interruttore si fermevano i trasporti i treni le macchine gli aerei e oltre tutto il resto quindi un problema di relazione è necessario l'altra parte anche loro hanno bisogno di noi perché devono vendersi i loro prodotti quindi questa è l'unica l'unica forza che abbiamo è questa qui ecco la postdemocrazia è anche un effetto scusate se non sono chiaro nella spiegazione cosa può essere se uno alza la mano e dice scusa non ho capito questa cosa mi aiuta ad essere più chiaro connesso alla postdemocrazia è un processo diverso quello che è un recente documento che potete trovare sui siti firmato in una serie di grandi autorità europee è la disintermediazione cioè la intermediazione che cos'è nella società alla quale abbiamo appartenuto io Giorgio Vitadini Alberto Iannunzelli eccetera la società analogica diciamo era costruita in modo tale che c'erano dei grandi mediatori partiti politici sindacalisti sindacati associazioni famiglia chiesa che erano mediatori dall'alto verso il basso tenevano insieme la società attraverso lo scambio e i vecchi mediatori sostanzialmente creavano comunità pensanti il partito politico il sindacato l'associazione erano comunità che pensavano è il rapporto è il rapporto verticale ed era riconosciuto come tale nel senso dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto vi racconto una cosa che riguarda me ero dirigente del partito comunista se c'era un problema il giovedì eravamo riuniti si diceva benissimo domani venerdì è sabato si fa il comitato federale in tutte le città si informano i compagni di quello che loro pensano attorno a questo problema lunedì c'è riunione per sapere cosa pensano cioè tu portavi la parola dall'alto sentivi cosa diceva il basso tra virgolette e nell'arco di tre giorni avevi il quadro complessivo della situazione da Siracusa a Brescia era un sistema di comunità pensanti era una comunità è legata ad un sistema di carattere verticale ora noi non siamo di fronte a una c'è stata poi la crisi dei partiti e dei sindacati per una ragione dei partiti soprattutto dopo il 92 c'è stata l'autorisoluzione dei partiti dopo Tangentopoli non hanno avuto il coraggio di pensare al futuro io ricordo sempre e lo ricordo anche in questa occasione una espressione di Bettino Craxi che aveva capito l'unico che aveva capito quello che stava succedendo e ne fu vittima avversario per quanto riguarda politicamente l'avversario intelligente devi riconoscere l'intelligenza dice guardate che noi dobbiamo trovare una soluzione altrimenti precipiteremmo verso il disastro e l'avventura ci fu il disastro e l'avventura perché nessuno di noi capì che quella era una cosa vera tutti eravamo contenti alcuni pensavano a salvare se stessi gli altri pensavano che quelli sono rovinati e quindi a questo punto passiamo a noi era questa la questione ma ecco lì ci fu la dissoluzione del sistema politico italiano tutto quello che ci sono dopo è avventura e disastro insomma adesso forse un po' meno ma insomma fino a poco tempo fa era così ma che cosa ha cambiato questo rapporto? il digitale perché la comunicazione col digitale e social è orizzontale non è più verticale cioè voi parlate con persone e soprattutto vi prego di seguirmi su questo passaggio mentre la vecchia intermediazione si basava sul principio di rappresentanza io mi iscrivo a quel sindacato mi iscrivo a quel partito a quell'associazione frequento quella parrocchia perché mi sento rappresentato dei valori che esprime quel partito quel sindacato quella parrocchia no? ma se io parlo orizzontalmente il principio di rappresentanza non conta più conta il principio di seguitemi somiglianza io parlo con quelli che somigliano a me che la pensano come me e la comunità che si crea non è una comunità pensante è una comunità in genere rancorosa del rancore prevale la parola d'odio la parola di insulto no? questo è molto molto più presente della parola di consenso e soprattutto come dire il follower chi è? il follower non è che creda nei stessi valori dell'influencer crede nel vestito che si mette nel trucco che usa nel non dico panettone altrimenti viene fuori in qualcosa che quella suggerisce di comprare e così via cioè è un problema una volta io come dico tante volte noi abbiamo avuto la fortuna di avere maestri gente che ci ha educato io la prima lezione di educazione politica che ho avuto entrato in Parlamento è stata guarda non è possibile che noi abbiamo sempre ragione è statisticamente impossibile ed è statisticamente impossibile che noi stavessere hanno sempre torto quindi un parlamentare intelligente cerca di capire dove sta il punto di ragione dell'altro e parte da là la seconda lezione le vi qualche giorno dopo quando avevo seduto vicino a me un deputato pugliese un po' come dire un po' aggressivo emotivo ogni volta che parlava un democristiano gli urlava contro se parlava un messino e quello che succedeva il segretario d'aula che è un personaggio importante in Parlamento è quello che dirige il lavoro di d'aula gli si avvicinò e disse guarda qui stiamo per parlare con quelli che non la pensano come noi il Parlamento il luogo dove stanno insieme quelli che non la pensano in questo stesso modo sono inutili il Parlamento per stare bene la telefonata quindi quando finisce la seduta a quei due gli offri un aperitivo e la chiudete là allora si obbediva quindi questo parlamentare gli offri l'aperitivo e si pacificano cioè il cui stiamo per parlare con quelli che non la pensano come noi e non è possibile che l'altro abbia sempre torto sono due regole democratiche fondamentali che oggi sono un po' decadute in quanto l'insulto nei confronti dell'avversario è la cosa più frequente che ci sia anche in politica non solo e credo che i social aiutano in questo e anche il dato come dire di non capire che in Parlamento c'è di senso è l'anima del Parlamento quella lì che siano opinioni diverse ci fossero la stessa opinione ecco questo meccanismo è stato un po' distrutto questi valori io li ritengo valori anche se poi non è così mi capita di seguire per vecchia affezione ho fatto il parlamentare per 30 anni quindi per vecchia affezione parlamentare di seguire quando posso i dibattiti parlamentari e c'è molta gente brava e seria in tutte le forze politiche ma che non è valorizzata perché il meccanismo elettorale è tale da non valorizzare che ha un rapporto reale con i problemi del territorio delle persone ma è fatta per valorizzare chi è vicino al capo io ricordo che qualche anno fa vendero alcuni giovani deputati di un partito non mio che stava nascendo allora i quali mi dissero ma noi l'abbiamo seguita le è venute le nostre licee a parlare che cosa ci manca io dissi in modo un po' retorico e mi rendo conto e apparirà retorico anche a voi e mi scuso con questo dissi guardate voi non conoscete il dolore delle persone che il parlamentare deve conoscere il dolore delle persone deve parlare con le persone perché oggi le persone che stanno male sono sole e quando vengono a parlarti del fatto che hanno i soldi per curare la moglie che sta o il marito che sta male non vogliono i soldi da te vogliono dirti che hanno questo problema e questo è un problema sociale non è un problema individuale perché non sarà mica lui solo se tu conosci il dolore delle persone ti impegni a me è capitato da ragazzo un'esperienza abbastanza singolare che non c'è niente con l'Europa ora poi torno in Europa facevo la seconda media e mio padre che era giornalista quindi stava abbastanza viveva in un paesino delle Puglie mi disse sai Luciano è morto il segretario del Partito Comunista qui di Rutigliano siamo in questo paese mi dispiace era l'unico che sapeva leggere e scrivere cominciai a capire come girava la cosa sia per cui dovresti andare a leggere l'unità alla sezione dei PC quando tornano dal lavoro allora era estate naturalmente sono le vacanze i contadini partivano se qualcuno c'è qualcuno del sud che sa queste cose partivano alle 4 del mattino di casa quelli lì che avevano la bicicletta gli altri avevano a piedi arrivano sul fondo dopo due ore di cammino e l'orario di cammino non era considerato l'orario di lavoro lavoravano perché lavoravano verso le 4 del pomeriggio tornavano a casa andavano a casa si lavavano poi passavano in sezione e dopo andavano in mercato sulla piazza a promettersi che vuol dire a promettersi passavano i capi contadini che pigliavano chi avrebbe lavorato il giorno dopo era questo il mercato bene io cominciò a leggere l'unità leggevo i titoli e quando i titoli interessavano legge l'articolo guardate persone che hanno fatto 12 ore di lavoro andavano in sezione e volevano sapere che succedeva nel mondo che succedeva in Italia io trovavo questa una prova sono stati i miei maestri in questo senso gente che non ha detto eh allora basta sono scatole vado a fare dei passi vado a dormire no andavano in sezione poi successe questo che il prete del paese io vivevo con delle zie perché mi erano separati andò dalle zie e dissero nessuno si usa il voi quando si patano e disse donna Gemma mia zia vostro nipote legge il giornale dei comunisti dice e deve venire a leggere anche l'azione cattolica per un problema di par condicio immagino e allora dicevo diciamo dice se a Luciano forse dovresti leggere il giornale anche l'azione cattolica il condizionale come dire era una cortesia non mi ricordo che giornale però insomma rischiare la schizofrenia perché se leggeva l'unità il governo massacrava eccetera se leggeva il giornale dell'azione cattolica erano i comunisti che mangiavano i bambini sono cose terribili ma a parte questo a me colpì una cosa che è stata una mia lezione di carattere politico tra i comunisti c'era uno che aveva costruito una bellissima cartella di legno per il figlio che però si vergognava a non avere una cartella come gli altri per andare a scuola elementare naturalmente e non voleva andare a scuola senza la cartella ma il padre non aveva i soldi per compagni la cartella e gliel'aveva fatta lui di legno che peraltro era una bella cartella dall'altra parte c'era un contadino che mi racconta in disparte che è un problema molto grave perché non ha i soldi per comprare le scarpe alla figlia e la figlia non vuole andare a scuola senza scarpe perché tutti gli altri c'erano le scarpe erano due persone povere che avevano lo stesso problema uno votava comunista l'altro votava democristiano ma il problema era lo stesso allora ho capito che la funzione della politica è servire i bisogni dei cittadini indipendentemente da quello che pensano che altrimenti non è politica è partigianeria e queste sono le lezioni che poi si imparano si imparano avendo contatto nella vita con le cose comunque torniamo scusate alle cose quindi dicevo questo i vecchi mediatori partito sindacato chiesa noi sappiamo dove stavano avevamo il numero di telefono avevamo il nome l'indirizzo se qualcosa andava telefonevamo diciamo ma che state combinando mandateci qualcuno qui perché non si capisce che scelta avete fatto c'erano queste cose qualcuno di voi il numero di Amazon sa chi è il consiglio d'amministrazione di Amazon che è fatto o di Google sono soggetti oligopolisti in qualche modo misteriosi rispetto a quelli per cui la loro forza è determinata dal fatto che loro ci danno a costi accettabili servizi indispensabili ormai che ci servono e però ci chiedono soltanto una cosa anzi non ce la chiedono gli diamo i nostri dati noi siamo la merce di questo meccanismo dando i dati guardate che se qui i dati ci fossero chiesti dallo Stato ci sarebbe la gente in piazza tutti quanti noi insieme faremo la rivoluzione in piazza che lo Stato vuol sapere i nostri dati vuol sapere con chi telefoniamo chi parliamo che cosa mangiamo che cure facciamo che medici abbiamo che malattie abbiamo loro sanno tutto e noi lo diamo gratis anzi pagando per i servizi va bene e siamo tutti contenti qual è l'effetto complessivo di questo meccanismo primo il principio dell'identità sociale e politica che era fondato sull'appartenenza a comunità pensanti come ho detto dicevo è stato sostituito dalla somiglianza la reintermediazione della rete è prevalentemente orizzontale come ho detto prima vi sto riassumendo quello che ho detto è più frequente il rancore che la proposta qui c'è un punto nuovo e prego di stare attenti quello che è scritto sui social non è sottoposto a verifiche razionali è vero o è falso è ragionevole è ragionevole ma verifiche di consenso ho avuto 10 like 100 like e quindi è giusto e quindi va bene no è giusto e quindi va bene naturalmente io per avere il like come sappiamo tutti devo spingere la cosa se faccio un ragionamento pacato di 30 righe invece che di 4 righe non si legge nessuno se do un insulto di 2 righe vi assicuro che lo leggono tutti e poi c'è gli piace e non piace questo meccanismo è un meccanismo dissociativo e rende più difficile nel senso diceva Don Giussani siamo collettivamente soli era un'espressione molto azzeccata nel senso che stiamo insieme ma in questo insieme prevale l'essere solo e stare un insieme apparente non reale come è investita l'Unione Europea da questi processi l'Unione Europea fa parte del mondo e quindi non è una monade che vive di vita propria i processi che investono nel mondo compresi quelli che sto parlando investono anche l'Unione Europea tanto che adesso uno dei problemi più gravi che si sta ponendo se vi capita di guardare con attenzione qualche giornale straniero già ne parla ma ne parliamo quelli italiani c'è la intromissione di Cina e Russia nelle elezioni europee al fine di favorire i partiti anti-europei perché naturalmente e guardate che i flussi di migrazione in questo momento sono potenziati solitamente dal fatto che la Russia ormai domina una parte del mondo nord-africano e a tutto l'interesse è la destabilizzazione dell'Europa a questo proposito mi permettetemi una parentesi noi stiamo spendendo parecchi soldi per l'Ucraina ne spenderemo molti molti di più se dovessimo difenderci dalla Russia sia chiaro questo perché se quando la Russia vince la battaglia in Ucraina già sta adesso in Moldavia sta operando per la costituzione di un partito che sia filo russo e contro la indipendenza della Moldavia dobbiamo riflettere a quello che ci aspetta insomma no a quello che potrebbe aspettarci non diciamo quello che ci aspetta sapete che è stata presentata un'arma spaziale che è uno strumento abbastanza pericoloso perché disattiva una forma di comunicazione sulla terra insomma c'è stata una protesta trasversale importante è stata quella degli agricoltori l'avete vista europei Germania Francia Italia Belgio su questi enormi trattori era contro l'Europa trattori comprati con i fondi europei quindi la cosa era un po' singolare comunque poiché è bene che voi sappiate queste cose la PAC che è la spesa che si fa per l'Europa è un terzo del bilancio europeo soltanto per agricoltura si spende un terzo del bilancio europeo sono 380 miliardi ora l'impegno a ridurre l'uso dei pesticidi l'impegno a non essere disponibile alla messa a riposo di alcuni terreni che poi è finanziata e non è gratuita mantenendoli il 4% incolto dietro contributi comunitari per poter consentire la rotazione ecco a questo punto c'è un problema delicato che riguarda la salute se tu non riduci i pesticidi non è che stiamo meglio ma questo è l'effetto della debolezza della politica del fatto che la politica non è in grado di opporsi a forme di coalizione perché che le elezioni europee a stare attenti non si giocano in nessun paese sull'Europa non si giocano sulle vicende nazionali in Germania in Francia dappertutto perché Macron sta pensando quanti voti prende Le Pen perché per la gara che c'è la Noventuro per la corsa della presidenza della Repubblica e quindi è una questione delicata Scholz ha dei problemi anche economici interni la Germania è il paese che è più in crisi in Europa molto più di noi in Francia la polemica reale è se piglia più voti quanti voti piglia Salvini cosa che non riguarda l'Europa ma riguarda l'Italia quindi in tutti i paesi non c'è una una campagna europea sentirete e guardate se qualcuno parla d'Europa annoierà annoierà come forse vi sto annoiando io annoierà perché vabbè poi vediamo l'Europa poi vediamo non noi come parte parte non solo ma parte costitutiva e parte che può avere anche avvantaggi perché gli equilibri del mondo sono tali che nessun paese europeo da solo può resistere a Cina e Stati Uniti l'Unione Europea può essere un terzo paese un terzo blocco no? in questa dinamica se però non è Unione Europea e qui ci vuole una politica della difesa e una politica estera che noi non abbiamo ecco qui c'è stato un cambiamento rilevante innanzitutto voglio ricordarvi che nel 2015 l'attuale Papa parlando a Firenze ai Vescovi riuniti ai Vescovi italiani il suo movimento non era politico era ecclesiale diceva guardate che non siamo in un'epoca di cambiamenti siamo in un cambiamento d'epoca cioè non è che stanno cambiando alcune cose in quest'epoca è cambiata l'epoca e siccome sta cambiando l'epoca evitare di fare prediche di tre quarti d'ora perché la gente in quest'epoca si scorcia se ne va fate prediche dieci minuti un quarto d'ora tanto basta lo diceva in questa chiave ma il cambiamento d'epoca è sotto i nostri occhi pensate solo appunto al peso che è il digitale nelle nostre vite il peso anche positivo e così nella tragedia dell'11 settembre 2001 il mondo andava da grande la produzione si sviluppava grande finanza funzionava c'era l'utopia di una grande globalizzazione a guida occidentale una occidentalizzazione del mondo la globalizzazione quella che si è chiamata globalizzazione in realtà una occidentalizzazione cioè i paesi occidentali ritenevano di avere il primato della finanza della tecnologia della democrazia della conoscenza e siccome erano buoni la esportavano altrove e tutto ciò che gli stili di vita che non si altra parte le canzioni americane le cantate in Cina in Giappone in Australia era lo stile di vita gli stili di vita occidentali ed europei erano quelli che dominavano nelle giovani generazioni soprattutto dopo l'1 settembre tre presunzioni ci hanno danneggiato anche l'Europa la prima l'idea di poter esportare la democrazia con le armi guardate mi era capitato in quel periodo avevo un corso di lezioni alla New York University e quando ho finito una lezione uscivo e usciva dall'altra parte anche una personale politica americana che non ricordo il cognome che mi fu presentata dal preside della facoltà di giurisprudenza della New York University e mi disse che ci presentamo reciprocamente nessuno di noi aveva niente da dire all'altro perché non ci conoscevamo a un certo punto lui mi disse ma lei cosa pensa di questa azione che stiamo facendo lì bisogna abbattere il regime e verrà fuori la democrazia come è venuta in Italia in Germania dopo la seconda guerra mondiale e si ma guardi non lo so perché noi Germania in Italia è la 1400 che parlavano di democrazia sono cinque secoli che ne discutiamo e sono state fatte rivoluzioni per avere la democrazia guerre per avere la democrazia quelli sono paesi che non conoscono cioè sono altri paesi non gli puoi imporre un modello occidentale dicendo fate così perché è un'altra logica ma no dice guardi lei sta esagerando perché poi si è visto secondo errore il mito del libero mercato come presupposto necessario per lo sviluppo delle democrazie no in realtà la cosa è un po' diversa perché mentre la democrazia ha bisogno del mercato il mercato non ha bisogno della democrazia si è visto in Cina la democrazia ha bisogno che le merci e le idee circolino ma il mercato lì per sé l'importante è che c'è qualcuno che lo diriga e la convinzione ora vi dico che lo sviluppo digitale avrebbe messo in difficoltà i regimi autoritari era questo il terzo errore su questi dossier l'Unione Europea non ha mai chiesto di avere voce non ha chiesto di avere voce su mercati su internet su tutto questo ecco mi è colpito molto che il 9 marzo 2000 quindi l'anno prima delle torri gemelle il presidente degli Stati Uniti Clinton chiarì il punto di vista americano sulla Cina innanzitutto lui autorizzò e aiutò l'ingresso della Cina nel World Trade Organization che sarebbe l'organizzazione del mercato mondiale sostiene il presidente che finalmente entrato in questo mercato il governo cinese non sarà più allo stesso tempo per tutti i datori di lavoro padrone di casa commerciante e varia avrà quindi meno strumenti per controllare le vite umane e successivamente dirà che nel nuovo secolo la libertà si diffonderà attraverso telefono cellulare modem con il suo ingresso nell'organizzazione mondiale del commercio entro il 2005 la Cina eliminerà i dazi sui prodotti delle tecnologie dell'informazione rendendo gli strumenti di comunicazione migliori più economici e davvero disponibili sappiamo quanto internet ha cambiato l'America e siamo già una società aperta immaginate quanto potrà migliorare la Cina sappiamo come è andata finire quattro anni dopo Biden carola dose dicendo datemi un solo progetto innovativo un solo prodotto innovativo che viene dalla Cina il mondo è cambiato e il mondo è cambiato perché noi abbiamo capito perché ha prevalso l'idea occidentale che quelli non erano in grado erano dei pari del mondo e quindi dovevano fare quello che dicevamo noi ora il dopo l'attentato dottore gemelle sono stati commessi tre errori non so se avete seguito il dibattito tra Biden e Netanyahu dopo il 7 ottobre Biden ha detto una cosa di grande intelligenza quindi a momenti di lucidità dicendo a Netanyahu sta attento a non fare gli errori che abbiamo fatto noi dopo l'11 settembre quello di rispondere con una guerra e poi non sai come uscirne poi si è scappato dall'Afghanistan alla fine la prima idea è che l'idea è che si poteva esportare alla democrazia e si è visto che non è possibile pensate che la guerra in Afghanistan è costata agli Stati Uniti un trilione di dollari un trilione non so quanto sia sono molti zeri ma non so devono essere 12 zeri perché 9 è un miliardo quindi 2300 morti e 3000 feriti all'Italia un miliardo di euro e questo non si sa 53 morti all'Afghanistan 250.000 morti ecco il secondo abbaglio che è stato quello della presunta miracolosità dei mercati noi pensavamo che i mercati sarebbero stati decisivi per tutto sapete chi è il più grande possessore di titoli americani è la Cina la Cina possiede più di mille miliardi di dollari dei titoli di debito americano quindi se domani Dio non voglia c'è qualcosa possiamo buttare giù l'economia americana in quanto l'America è un debito enorme molto più grande del nostro può permetterselo perché è un sistema produttivo che funziona ma i titoli c'è la Cina il terzo errore ha riguardato internet ricordate che Clinton disse che il digitale avrebbe democratizzato la Cina non è così nel 2017 il governo cinese ha pubblicato il piano di sviluppo dell'intelligenza artificiale di nuova generazione per il 2030 finalizzato e rassume la leadership mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale entro il 2030 cioè è programmato per il 2030 in realtà non anticipato già adesso sono leader mondiali per dire su molte cose ma la cosa importante è che noi in Europa non abbiamo fatto nessun piano strategico sull'intelligenza artificiale adesso abbiamo provato queste regole ma che non sono un piano strategico è una regolazione ecco allora quando si parla come dire in Unione Europea dobbiamo tenere conto anche di quello che stanno facendo i nostri competitors Stati Uniti e Cina se non ci mettiamo su quella strada siamo drop out siamo fatti fuori allora il problema di discutere dell'Europa è questo interessa abbastanza poco allo Stato quanti voti prende la Lega quanti voti prende Fratelli Italia quanti voti prendono gli altri il problema c'è un'idea d'Europa lì dentro o no noi stiamo votando per chi vincere in Italia o per chi porterà determinate idee o presenze in Europa e questo credo che sia una richiesta che vada fatta ai dirigenti politici ma parlateci di Europa ora c'è un dibattito televisivo tra Schlein e il presidente Meloni sono curioso di sapere di che cosa parleranno se parlano d'Europa quanto parleranno d'Europa o quanto parleranno del resto e dell'Italia e guardate intanto questa non è una cosa secondaria sapete perché vuol dire che chi va in Europa va al buio a me è capitato quando ho dovuto ho fatto il presidente della Camera di avere una iniziativa per cui che i parlamentari europei delle commissioni trasporti per esempio poteranno partecipare alla riunione delle commissioni trasporti italiane anche per informarsi sono sconfitto sotto la linea non mi fregava niente a nessuno sostanzialmente né gli italiani né gli europei di fare queste cose ora oggi la Cina è la prima oggi a livello globale per il numero dei paper di ricerca e documenti sull'inizio artificiale più citati è prima al mondo nei brevetti prima al mondo negli investimenti di capitale di rischio secondo per numero di aziende di intelligenza artificiale aveva detto Clinton che sarebbe stata finalmente una grande forza liberale bene attraverso l'intelligenza artificiale la Cina controlla tutti i suoi abitanti nelle grandi città tutti i suoi abitanti attraverso meccanismi di riconoscimento facciale e tutto perché poi in Cina si fa quasi tutto tramite il denaro non esiste più fatto tramite tessere carte eccetera perché con sanzioni di questo tipo però state attenti in alcune città se tu ognuno come i punti patente c'hanno i punti cittadinanza se tu vai al di sotto di certi livelli non puoi prendere i treni in alta velocità i tuoi figli non possono frequentare le scuole di livello ma frequentano le scuole meno importanti e così via sono sanzioni pesanti pare che i cinesi siano tutti contenti perché nessuno ruba più niente però la libertà è andata lo scambio libertà governo è sempre è stato uno dei punti di fondo della democrazia da Hobbes in poi io do a te sovrano i poteri e tu mi garantisci la sicurezza poi in democrazia la sicurezza c'è un problema di diritti libertà soltanto gli stati fortemente autoritari garantiscono questo scambio nel senso io ti tolgo tutte le libertà ma ti garantisco tutta la sicurezza possibile quindi l'intelligenza artificiale è stata uno strumento contrariamente a quello che pensava Clinton e pensava Biden uno strumento di grande controllo sociale l'Unione Europea non ha avuto alcun ruolo in questo cambiamento d'epoca io questo vorrei che voi l'avessi ben preciso questo non è un'accusa dobbiamo costruircelo questo voglio dire l'impegno deve essere ad avere un impegno su questo un impegno adesso per esempio c'è la questione del Mar Rosso e lì è abbastanza interessante una cosa che le nazioni che più sono impegnate sono Grecia Italia Francia e un po' Spagna perché sono quelle come dire che più vicine i paesi del nord sono meno interessanti e tenete presente che la Russia essendosi il disegelo dell'Artico ha già cominciato a potenziare alcuni porti sull'Artico per proporre una rotta alternativa che invece di passare da sotto passi da sopra che è più rapida e favorisce i porti del nord Rotterdam sono favoriti a questo perché una nave che deve andare passare dal Mediterraneo a fare Suez poi devi fare Gibilterra poi devi fare la Spagna la Francia e poi andare a Rotterdam di lì è molto più semplice ecco questi problemi una cosa di questo genere danneggerebbe fortemente la Europa ma se ce ne stiamo occupando militarmente però un discorso serio sui uti non so se si sta facendo ecco attualmente sapete quante sono le guerre in corso dite un numero sono 59 ma i conflitti che non vedono impegnati direttamente gli stati sono 170 nessuna potenza più è in grado di prevenire o chiudere le guerre l'Unione Europea sta avendo un ruolo militare per quanto riguarda l'Ucraina non sta avendo nessun ruolo per quanto riguarda Gaza Israele eccetera è in corso l'accreditazione di un nuovo ordine mediale perché 59 guerre tra stati sapete che vuol dire che si sta ponendo le basi per il nuovo ordine mondiale che chi vince queste guerre farà parte di un club di nazioni in grado di condizionare il mondo di sedate un po' avanti ecco qui c'è un punto l'Occidente è in minoranza vediamo se sono capace ecco quelle i numeri azzurri sono i paesi democratici tutti gli altri sono i paesi non democratici oggi oggi solo il 20% della popolazione mondiale vive in democrazia nel 2000 le democrazie al mondo erano 83 oggi sono 24 a chi interessano questi dati cito un sito che potete guardare Freedom House si chiama che fa ogni anno il rapporto naturalmente sono cose da guardare economico attenzione perché sono cose molto legate all'ottica americana però sono utili l'economist ha recentemente due giorni fa un rapporto sull'index o democracies se avete voglia di guardarlo è gratis è sufficiente che mettete il vostro indirizzo in me nome e cognome ve lo mando a Oscar e lo gratis ed è abbastanza interessante naturalmente è molto attento ai profili economici però è un dato ecco la proposta dell'ambassionatore ucraino di sospendere la Russia dal Consiglio dell'ONU per i diritti umani che poi è finita in mano all'Irano quindi non so cosa era meglio tra i due francamente ha avuto 93 voti favorevoli 24 contrari 54 astenuti ecco quelli rossi sono quelli che hanno aderito alle sanzioni contro la Russia tutti quanti gli altri quelli che non hanno diritto questo è il mondo non è quello che pensiamo noi e l'Europa come vedete è una minima parte di questa parte del mondo ecco ecco a prova delle guerre io volevo fare una parentesi sto parlando troppo quando dobbiamo chiudere dunque guardate io sono molto colpito da una cosa che non c'entra niente con quello che stiamo parlando che ho scritto un libro che uscirà tra qualche settimana e spero come dicevo prima Giorgio di poterlo discutere al meeting sulla morte che io sono colpito molto che tutti parlano di dignità della morte e nessuno parla di dignità della vita si può avere dignità della morte senza dignità della vita o la morte è una via d'uscita e insomma questo guardate noi siamo indifferenti tutte queste guerre vuol dire morti tutte queste guerre vuol dire morti ma ci interessa il numero di suicidi aumenta anche nelle carceri ma quando una persona si suicida sapete perché si suicida? perché non ha via d'uscita che nessuno gli ha proposto una via d'uscita perché non trova una via d'uscita a me preoccupa questa questione della dignità della morte ognuno decide il proprio futuro come vuole come può io sono credente non sono cattolico non ho religione sono un credente privo di religione capisco perfettamente il valore della vita e il valore della morte perché sono valori che non possono essere più riproposti una volta che è finita è finita e ciò che è finito e non è riproponibile e appartiene ai fondamentali dell'umanità e di perciò sacro poi sarà un sacro religioso sarà un sacro laico ognuno pensa come vuole ma di questo non parliamo noi i manifesti sono per la dignità della morte io trovo ignobili alcune manifestazioni che ci sono per la vita ma che in realtà sono contro contro le donne contro una serie di diritti eccetera così che creano come dire forme di criminalizzazione vogliono fare non forme di aiuto di sostegno per ragioni di politica interna e basta ma insomma un discorso sulla dignità della vita va fatto guardate che solo un discorso sulla dignità della vita produce anche politiche dirette alla vita cioè politica del lavoro politica della formazione politica delle famiglie sono politiche di vita non sono pezzi scongeniati non so se è chiaro questo se tu hai la vita davanti allora fai un certo tipo di politica del lavoro di politica della famiglia di politica della formazione politica della sanità sei quello se è soltanto non parlo dei governi in genere non di questo non mi interessa dei governi in genere che non sono non apposto questa questione della biopolitica intesa come politica che sostiene la vita e tutte queste guerre che abbiamo attorno la crescita dell'eutanasia la crescita dei suicidi è la crescita dei morti in mare ma guardate questa dei morti in mare scusate non c'è niente qua d'Europa forse sì il fatto che ci siano delle autorità politiche collocate in Polonia in Ungheria in Italia in Francia Stati Uniti dove volete le quali decidono alcune politiche che hanno come effetto la morte l'annegamento ma questa qua tu sei responsabile e non rispondi responsabile della scelta ma non rispondi delle conseguenze della scelta e vi sembra che sia umano questo che risponda a un ordine mondiale a un sistema di valori guardate noi siamo indifferenti nei confronti della morte lo so che la morte è una brutta parola ne parliamo sempre come dicono ma questa perifericità della morte la favorisce nella crescita che non è oggetto di riflessione come un oggetto di riflessione della vita che c'è vita e morte hanno un rapporto molto stretto tra di loro se c'è la dignità della vita c'è la dignità della morte se c'è il rispetto della vita c'è il rispetto della morte sembra che la parola possa essere evocativa certo la parola ha una funzione evocativa quante rivoluzioni sono fatte sulla parola se guardate i primi passi della Genesi Dio prima divide con la parola e dice che era cosa buona e il giorno dopo fa altro ma perché non fa tutti uno solo giorno Dio poteva farlo perché la parola ha bisogno di riflessione la parola ha bisogno del tempo ecco noi su queste cose che non c'entrano niente qua d'Europa e mi scuso ma insomma io trovo che sono i fondamentali della nostra vita di oggi vita e morte sono i fondamentali e se non riflettiamo su questo siamo scusate l'espressione come gattini ciechi che non capiamo bene che ci succede attorno e quali sono come dire i punti radicali della vita ecco allora ci sono allora tornando all'Europa voglio dire che i 78 stati che non sono d'accordo rappresentano il 70% della popolazione mondiale quindi quelli che sono con la Russia sono il 70% della popolazione mondiale ci sono problemi regolatori però guardate ragazzi e ragazzi ci sono anche problemi di battaglie ideali la fuga verso la regola è in genere determinata dal fatto che manca una battaglia ideale la battaglia ideale è molto più difficile da fare rispetto alla richiesta di una regola perché ti impegni a studiare a legarti all'altro ad avere delle sconfitte anche però la battaglia ideale è fondamentale ma io una storia vitale di vita complicata sono andato in un campo di concentramento e a parte questo punto è un altro ma quelli che hanno fatto la lotta di liberazione pensavano di vincere avevano di fronte i più grandi necessiti del mondo erano dei poveretti non sanno neanche sparare sono andati in montagna ma perché hanno fatto una battaglia ideale e quanti hanno fatto battaglie ideali si potevano vincere o perdere era meglio vincere naturalmente però quelle volte si perde ma le battaglie ideali sono essenziali per la democrazia la democrazia non è fatta di regole è fatta di valori le regole c'è anche i poteri autoritari i valori non hanno i poteri autoritari e se l'Europa riteniamo che sia un valore allora allora bisogna vedere come collocarci su questo quali sono le cose da non fare il negazionismo di fronte ai cambiamenti climatici ora questo è un fenomeno che sta cambiando profondamente i sistemi di vita il caldo che c'è in questi giorni tra Milano Torino Roma lo stesso come mi diceva l'altro giorno un grosso proprietario agricolo che ho conosciuto dice noi abbiamo un problema il grano è salito di 40 cm c'è la pioggia adesso c'è la batta giù e non possiamo più raccogliere per cui la pioggia doveva venire quando viene a gennaio il primo di febbraio arriva a marzo è una rovina questo vuol dire che non c'è grano questo vuol dire che dobbiamo comprare un qualche altra parte l'Ucraina per fortuna ha sbloccato i canali del Mar Nero quindi può continuare a fornici di grano da quella parte lì però fino a quando il secondo punto è stare attenti il nazionalismo è contrario agli interessi nazionali perché non difende la collocazione italiana in Europa è una battaglia tutta interna terzo dobbiamo sostenere la democrazia guardate noi la democrazia non è fatta di regole anche questa è fatta di comportamenti dei cittadini democratici la democrazia ha bisogno di cittadini democratici perché il sindaco della città può stabilire può mettere 25 raccoglitori per isolato di rifiuti se però continuano a buttare roba per terra vi assicuro che non servono allora ci vogliono cittadini democratici cittadini che credono in queste regole e c'è il problema dei doveri la democrazia è una cosa faticosa guardate che non è fatta solo i diritti è fatta i doveri non solo ma secondo la mia ottica il dovere è quello che tiene insieme il dovere con l'altro noi qui siamo una comunità ci stiamo comportando tutti lo stesso modo ma non c'è nessun cartello fuori che ci dice di comportarci così perché sentiamo dei doveri e poi da questi doveri nascono i diritti richiedere interrompere e così via diritti senza doveri sono armi contro il vicino di casa e sono lo spappolamento della società ma chi parla di doveri nella società contemporanea c'è qualche autorità religiosa laica politica spirituale che vorrete voi che parla di doveri tutti parlano di diritti certo se andasse a fare un comizio in piazza dicendo cari cittadini adesso vi parlo dei vostri doveri non credo che ci sarà molta gente a sentirmi dopo 10 minuti però si può trovare il modo per cominciare ad affrontare questa questione la terza questione evitare di ridurre la questione africana alla questione migrazione questo è un errore gravissimo e devo dire che Piano Mattei che ho guardato con certa attenzione a parte alcune incongruenze è un'idea è un'idea un'idea di parlare con l'Africa non per colonizzarla ma per dare servizi istruzione formazione questa roba qui credo che questo sia una cosa importante è un modo giusto per guardare a quei problemi questo questo deve fare l'Europa non essere negativa nei confronti dei cambiamenti democratici e poi non esternalizzare le funzioni di difesa e di sicurezza finché c'erano gli Stati Uniti fino a che c'era la guerra fredda eravamo tranquilli noi potevamo fare i pacifici tanto c'era qualcuno che ci difendiva ai confini quindi eravamo a posto adesso il problema è più delicato ma guardate che dice dovete cominciare a pensare alla vostra difesa perché da soli non ce la facciamo se vince Trump le elezioni il problema sarà ancora più drammatico e allora io so bene che quando si parla di difesa poi dopo ci sono tante io stesso faccio parte fino a 3 dicembre del presidente della fondazione Leonardo e Leonardo produce strumenti militari come sapete anche si richiama la costituzione che l'Italia ripudia la guerra si dimentica la seconda parte di quell'articolo come strumento di aggressione non ripudia la guerra per difendersi non solo ma dice che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino noi abbiamo tutta una serie di regole rigidissime le più rigide che ci siano sul fatto che non si forniscono armi a paesi in guerra e sono abbastanza ben rispettate non stiamo fornendo armi a Israele in questo momento lo stiamo fornendo all'Ucraina perché l'Ucraina è stata aggredita ed è un altro tipo di logica però insomma questo problema è un problema molto serio ed è un problema guardate non nazionale perché non è che se l'Italia fa il 2% siamo a posto ci vuole oggi c'è un articolo molto importante sono solo 24 ore un personaggio a questi problemi li conosce bene che dice ci vuole un commissario europeo per la difesa perché se guardate noi per la difesa complessivamente spendiamo più o meno quanto gli Stati Uniti noi 27 paesi ma abbiamo un sistema di efficienza minima perché i sistemi non si parlano un sistema d'arma lituano non parla con quello italiano quello italiano parla con difficoltà con quello francese con quello inglese questo è un problema di difesa che naturalmente quello che vuole poi fare occhi azioni anti-europea lo sa che noi non siamo in grado oggi di mettere in campo una difesa ecco io credo che per andare alla conclusione che cosa è finita è finita la occidentalizzazione del mondo in modo non è più sulla scia dell'occidente i nostri competitori sono tutti competitori autoritari India Cina Stati Uniti Russia eccetera quindi ci abbiamo verso il mondo multipolare alleanza tra Cina Russia e Corea del Nord che la Corea del Nord fornisce proiettili alla Russia l'India è diventata una potenza spaziale ed è India e Cina sono metà del mondo da soli ed è un paese autoritario ecco l'Europa come fa a diventare il terzo polo tra Cina e Russia da un lato Stati Uniti dall'altro a mio avviso primo dotarsi di una politica di difesa di una politica estera cioè i singoli paesi devono cedere della sovranità su questo terreno rivedere i trattati che sono ormai scritti 30 anni fa 40 anni fa ma sono vecchi studiare la possibilità di voti a maggioranza credo che lo dicesse Giorgio prima nel suo intervento questo è molto importante che su alcune questioni non ci può essere un diritto di veto di un piccolo paese si può fare per club chi è d'accordo in questa materia si voti a maggioranza si comincia a vedere ma questo è un tema molto importante perché altrimenti l'Europa è bloccata è bloccata oppure deve pagare Orban ha preso 10 miliardi di euro come contropartire al suo consenso l'altro giorno non è che l'ha fatto gratis per tirare un po' sul murale faccio vedere l'ultima vediamo così questa è una roba che da lì si vede male credo il mio zaino dove è finito perché avevo il puntatore vabbè lo punto col dito questo è il tratto del mondo tratto del mondo dell'altro giorno come vedete siamo messi chi è messo peggio qui è la Francia nel vostro paese la democrazia funziona bene i tedeschi dicono 51% funziona bene l'Italia dice 36% funziona bene la Polonia 35% la Francia 31% questa è soltanto la Francia quindi ci interessa meno questa è importante avete voi fiducia in queste diverse istruzioni politiche? Germania 42% l'Unione Europea Germania 42% Italia 41% la Polonia 40% la Francia 37% avete fiducia nel governo? la Germania 36% Italia 31% la Francia 28% sistema presidenziale allora io manderei un messaggio a qualcuno state attenti qui con questi presidenzialismi che poi in realtà non so quanto attirano questa è la Francia va bene l'esercito come al solito prende la la maggioranza la giustizia è messa abbastanza bassa ecco questa è una cosa importante questa qui è un il vostro lavoro è un lavoro che serve a qualcosa l'Italia 65% Francia 75% Germania 72% noi siamo quelli che penserebbero che il proprio lavoro non è sufficientemente valorizzato i vostri forzi sono riconosciuti e compensati Francia 53% Germania 67% Italia 47% non si ritiene che si sia sufficientemente ricompensati per il lavoro che si fa in realtà i nostri salari come sapete sono sono particolarmente bassi dunque qui c'è voi pensate che l'appartenenza europea è una buona cosa l'Italia il 54% dice che è una buona cosa la Germania il 58% la Francia il 48% quindi come dire da punto di vista comparativo non siamo messi molto male però c'è un problema noi siamo abituati a far male di noi noi parliamo male dell'Italia parliamo non è che bisogna l'apologia però dobbiamo avere anche perché il parlare male sapete che effetto ha? all'effetto della deresponsabilizzazione siccome va male perché mi devo impegnare? comincia a impegnarsi con qualcun altro in realtà bisogna avere la lucidità di guardare bene quello che va e quello che non va quello che c'è e quello che non c'è c'è per esempio una polemica sulle università italiane no? se funzionano se non funzionano se vanno bene se vanno male però se io vedo che i ragazzi della vostra età le ragazze della vostra età sono i più richiesti in Europa dai centri di ricerca delle imprese multinazionali europee e americane vuol dire che il merito c'è che la formazione c'è non ragione tutti ne raggiunge poco e noi siamo i penultimi in Europa per numeri laureati quindi siamo molto bassi però la qualità c'è altrimenti non ci sarebbe questa cosa qui e così va per tante altre cose io credo che dovremmo ecco essere un pochino più fiduciosi nel nostro paese nel nostro paese guardando attentamente quello che c'è quello che c'è di buono e quello che c'è di cattivo credo che sia un problema di responsabilità che alla vostra età bisogna cominciare ad avere ecco questo è un po' il punto e in questo quadro rientro il ragionamento sull'Europa bisogna cominciare dovete riflettere sull'Europa perché a me non appartiene io per ragioni anagrafiche capite sono alla fine sono alla coda dell'anagrafe voi no ciò che accade in Europa mi riguarderà abbastanza poco per poco tempo ciò che accade in Europa mi riguarderà tutta la vostra vita tutta voi dipenderete da là perciò è importante che la vostra generazione si occupi di queste cose e veda in che termini ragionare oltre che in termini italiani in termini europei e come collegare le due cose che non basta viaggiare per l'Europa non basta dell'Erasbus bisogna capire anche che tipo di politiche europee oggi abbiamo un problema drammatico che è determinato dal fatto che non abbiamo un leader europeo l'ultima è stata la signora tedesca la Merkel il maggior paese dell'Occidente contende il potere tra due personaggi che insomma Dio e Ben Gloria entrambi naturalmente ma non sei bene a chi affidarti beh meglio Biden che l'altro naturalmente sperando che non faccia tante confusioni quando parla insomma e però se una nazione la nazione più forte oggi ancora più forte del mondo non riesce a esprimere che due ottantenni io ho più di ottantenni quindi sono nel giro non riesce a esprimere più di due ottantenni e ragazzi un problema cioè c'è un problema in classe dirigente c'è un problema di impegno politico c'è un problema del peso delle lobby in quel paese e tutto questo ci deve preoccupare perché se quelli vanno giù e dall'altra parte gli altri vanno su non è che noi stiamo meglio come Europa di qui la necessità che l'Europa sia il terzo polo sarà il polo americano c'è il polo cino russo e poi ci sarà il polo europeo che comunque vada sia se vince Biden sia se vince Trump l'Europa non avrà più l'assistenza che ha avuto fino adesso questo è chiaro dobbiamo pensarci da solo noi stessi e questo è il vostro futuro bene io ho finito adesso se volete possiamo discutere si rompe il ghiaccio le raccogliamo entrambe così poi rispondo buongiorno innanzitutto la ringrazio per la lezione che ha fatto perché personalmente parlando è stato molto interessante le volevo fare una domanda anche rispetto a quello che ha detto io adesso per lavoro sto studiando un po' i dossier europei che incidono sulle politiche regionali in questo caso lombarde e mi viene da dire una cosa è vero che noi non ci interessiamo all'Europa però mi chiedo e le chiedo l'Europa l'Unione Europea si è interessata in questi anni di noi e le spiego in che senso leggendo vari dossier per esempio mi viene in mente la questione ambientale che a livello tematica europea è molto scottante la Lombardia le emissioni pro capite di ogni cittadino lombardo sono un terzo di quelle europee però veniamo costantemente attaccati perché si dice che gli italiani in generale i lombardi non stanno tenendo a mente questa cosa così mi viene in mente un altro dossier europeo che va avanti ma si possono fare tanti esempi sulla politica del riuso piuttosto che del riciclo e in questo caso non so se lo sanno tutti però l'Italia è un'eccellenza nel campo del riciclo alcuni paesi europei perché sono un po' indietro ovviamente vogliono portare avanti una politica del riuso che vada a discapito di quella del riciclo quindi io condivido la sua analisi sul fatto che noi non ci siamo e dobbiamo interessarci dell'Europa però di contro vedendo queste cose mi viene in mente che forse negli anni appunto in cui io posso fare un'analisi quindi 5-10 anni massimo di Unione Europea c'è stata questa disaffezione perché forse Unione Europea non ha saputo intercettare gli interessi nazionali e subnazionali ma lei ha perfettamente ragione e credo che dovremo dare maggiore pubblicità a questi dati per esempio anche per quanto riguarda gli incartamenti noi siamo primi in Europa per quanto riguarda lo smaltimento dei contenitori quando le comprono un televisore e gli danno tutta quella cartone lì e così quando compriamo dati siamo primi in Europa per lo smaltimento di queste robe qui e per il ricerche quindi io credo che questo dipenda non le so dire l'Europa obbedisce a logiche di potere è chiaro noi non abbiamo un potere sufficientemente adeguato in Europa e quindi sono altri che hanno altri interessi io credo che una pubblicizzazione maggiore di queste cose positive di quelle parla sia in Italia sia fatta con forze in Europa potrebbe aiutarci di più altrimenti le logiche in un sistema che non è ancora perfettamente unitario rispondono a chi ha più potere Francia e Germania nella specie ma qualche volta anche Olanda è meglio piuttosto che paesi di altro tipo prego grazie la ringrazio anche ma accordo anche i ringraziamenti per la premessa soprattutto su quelle anche morali faccio due domande che sono legate la prima sullo scenario un pochino più internazionale cioè tra questi due poli soprattutto cioè questi due poli quanto vogliono la creazione del terzo polo europeo perché tutta la guerra fredda e poi anche il periodo anche di Clinton sono all'insegna di cercare di non dare una politica estera e non dare una politica di difesa all'Europa quindi quanto è possibile la seconda ci riguarda l'Unione Europea in sé per sé e la mia domanda è quanto in realtà TUE e TFUE due trattati sono fatti per non essere cambiati cioè proprio per una fragilità interna del sistema che si congela e va contro diciamo quello che è il cambiamento quindi rende impossibile questo cambiamento dunque allora sulla prima cosa non ha nessun interesse a che l'Europa ci sia perché capisci se un mercato va bene se diventa una cosa politica va male perché limita il loro potere naturalmente se c'è un terzo soggetto che interviene quindi la sua preoccupazione è assolutamente fondata né Cina e Russia da un lato né Stati Uniti dall'altro hanno un particolare interesse ora il problema qual è? che nella logica tradizionale americana l'asse atlantico era un asse che rafforzava complessivamente la occidentalizzazione intesa come complesso di valori non come posizione geografica perché dell'occidentalizzazione fa parte anche la Noma Zelanda l'Australia e il Giappone che non si trova nell'occidente però si tratta del complesso di valori che si riconoscono in questa parte dell'occidente quindi sulla prima cosa sono tutto d'accordo sulla seconda penso che lei abbia ragione però io rifletterei se una cosa l'altro giorno parlando con un commissario europeo che mi aveva chiesto alcune cose lui ha detto ma guarda io penso che bisogna rivedere i trattati dove per esempio non c'è la parola web perché tutta la modernità non è nei trattati perché sono stati fatti prima da questo punto di vista io credo che sarebbe utile non una riscrittura che non se ne parla proprio ma una modernizzazione nel senso di inserire nei trattati cose che allora non c'erano e adesso ci sono e questo potrebbe essere un fatto come dire di unità maggiore complessiva per esempio questa è la regolazione che è stata fatta poi non so se ci sarà una volevo dire a Giorgio ad altri amici che c'è Oreste Pollicino della Bocconi che è il maggiore studioso delle questioni dell'interesse artificiale in Europa il resto è negli Stati Uniti però se quando viene potete chiedergli una lezione aggiuntiva io credo che sarebbe molto utile per voi per farvi capire davvero questa regolazione poi riguarda voi riguarda quello che potete fare potete non fare il problema è delicato perché io mi sto preparando ad una cosa per inaugurare un'università nel prossimo giorno un'accademico e tutta questa materia è transizione permanente cioè i telefonini di sei anni fa erano diversi da questi e questi tra sei anni saranno un'altra cosa non solo ma tra sei anni non ci saranno più queste cose qui noi ci potremo collegare rettamente tramite avatar a tutto quanto quello che c'è attorno a noi ma pensi che si stanno facendo delle sperimentazioni agli ospedali riuniti di Brescia e a San Camino di Roma su un oggetto che è una dimensione così di una noce il quale oggetto è in grado di registrare prima se la persona è caduta e di segnalare che è caduta se sta male se è un attacco cardiaco ma anche di segnalare se nelle vicinanze di 150 metri c'è qualcuno che per il battito cardiaco la tensione muscolare in modo di camminare e l'atteggiamento può avere intenzioni aggressive e quindi può consigliare di entrare nel primo negozio possibile e aspettare che quello se ne vada questa cosa era impensabile qualche tempo fa non solo ma questo tipo di accorgimento registra tutti i dati biometrici quindi se io metto l'ingresso di questa stanza con questo robo conosco tutti i vostri dati biometrici va bene se poi la social immagine sono tutti di voi ci sono problemi nuovi che stavano nascendo da questo punto di vista perciò quando i processi sono in transizione e non sappiamo sino a quando è accaduto qualche l'anno scorso questa cosa mi scusi se parlo anche di cose non direttamente ma sono interessanti noi siamo in contatto con una società e noi come fondazione siamo Olitec che è una delle migliori al mondo sul metaverso sulla terza dimensione beh questo signore aveva il papà che stava molto male per un tumore male si capiva che moriva lui fece l'avatar del padre l'avatar è un duplicato è un duplex con tutti quanti i dati biometrici del padre la voce le cose che aveva scritto tutti i libri che aveva ero un ingegnere importante qualche mese dopo ottene una conferenza stampa se volete c'è mio padre potete fargli le domande e risponderà l'avatar ha risposto non si sono accorti che quello era morto sei mesi prima e che quello era un avatar tra una decina di anni ognuno di noi avrà il suo avatar biomedico non la cartella clinica l'avatar biomedico nel senso che se vi succede qualcosa il medico si collegherà all'avatar per capire che tipo di mali voi avete che tipo di problemi avete qual è la vostra circolazione sanguigna qual è il vostro patito cardiaco che malattie avete avuto in precedenza se si può operare o non si può operare in alcuni stati degli stati uniti gli interventi chirurgici delicati si fanno prima sull'avatar e poi si fanno sulla persona tutto questo appartiene a voi non appartiene a noi sono cose sulle quali naturalmente non puoi farli in un solo paese l'Unione Europea la regolazione in qualche modo entra in alcuni aspetti di queste cose però io credo che il problema della modernità va affrontata dai trattati che sono premoderni la domanda che le faccio è molto giusta il Salgo non è poco precedente a quella attuale e quindi io credo che una revisione di temi di modernizzazione vada fatta Allora prima di dare la parola ancora in sala le leggo due domande che sono arrivate dagli hub Allora l'hub di Aqualagna domanda se l'Europa non fa un piano strategico sull'intelligenza artificiale quali pericoli corre secondo lei per la propria democrazia e poi le leggo direttamente la seconda domanda dalle marche quanto può essere difficile per l'Europa in quanto satellite statunitense ricavarsi uno spazio proprio nel mondo e quanto gli USA davvero lasceranno spazio all'Europa di dotarsi di una propria politica estera e di un esercito Comincio dalla seconda gli spazi non ti regala mai nessuno te li devi prendere e quindi se siamo capaci di prendercelo se qualcuno ci riconosca questo spazio è vostro assicuro che siamo destinati alla sconfitta perciò bisogna essere uniti perciò bisogna avere una politica della difesa perciò bisogna avere una politica estera perché ti conquisti degli spazi e li difendi in politica a Natale si fanno i regali in politica non c'è mai Natale non esiste Natale tutto quello che prendi è quello che riesci a guadagnarti non ci sono la prima domanda qual era già scusi signora allora la prima domanda diceva se l'Europa non fa un piano strategico sulla IA quali pericoli corre secondo lei per la propria democrazia il pericolo che lo fanno Amazon Google e compagna bella il piano strategico d'Europa e quindi come dire sarà un peso maggiore delle grandi oligarchie nei confronti delle istituzioni politiche lei ha parlato della disintermediazione che è in atto è in atto una reintermediazione c'è stata una disintermediazione adesso ci sono le grandi compagnie che stanno facendo una reintermediazione però mi scusi non ti ho rotto ecco io ritengo che i corpi intermedi devono essere valorizzati anche a livello europeo perché la scarsità di educazione che lei ha messo in evidenza con il fatto che certa politica favorisce la morte al posto di favorire la vita è proprio determinata dalla mancanza di educazione e la mancanza di corpi di intermedi favorisce questa mancanza di educazione nel popolo l'altra cosa in cui io non voglio assolutamente essere annoverata è il fatto di de-responsabilizzarmi anche dal punto di vista sociale lei diceva che parlare male delle cose corrisponde al fatto di de-responsabilizzarsi ecco io faccio parte di corpi intermedi che mi aiutano a non a non cedere a queste robe da vigliacchi io ho parlato di reintermediazione perché la crisi di quei corpi intermedi sono d'accordo con quelli che sono necessari ma adesso non svolgono questa funzione ma signora lei sa chi ha votato qual è il suo parlamentare il suo rappresentante in Parlamento conosce il nome e il cognome l'ha mai visto perché perché i partiti hanno sostituito la rappresentanza alla compatibilità con il capo e allora infatti nelle polemiche che ci sono sulle questioni del premierato e così via ho cercato di dire a chi mi chiedeva ma guardate che questa roba non sono d'accordo ci sono tanti motivi per cui avremo invece che avremo un triunvirato ci avremo il presidente della Repubblica il presidente eletto direttamente dal popolo e il numero due se qualcuno ha letto la proposta che cercherà di fare le scarpe al numero uno perché mentre il numero uno potrebbe allontanarsi senza problemi per il Parlamento il numero due se si allontana produce lo scioglimento delle Camere e quindi è quello più sicuro di tutti detto questo non ci può essere non potete non fare una legge elettorale in cui i cittadini si eleggono il proprio rappresentante scegliendolo e cosa facciamo ci eleggiamo un presidente del consiglio che vedremo se no una volta l'anno e non ci eleggiamo quello che deve rappresentare i nostri interessi che sono sul territorio e questo vuol dire riprendere in mano come giustamente dice il ruolo dei corpi intermedi e che vuol dire qualcuno perderà un po' di potere però devo dirvi vi assicuro che io ho vissuto allora facevo il presidente del gruppo parlamentare il mio gruppo parlamentare e ci fu il passaggio poi della legge Mattarella e di Mattarella è una legge molto importante secondo me è la migliore perché il cittadino è eletto è eletto in una circolazione in una corte di centomila persone alla camera centomila persone vai al mercato il sabato le conosci conosci quei diecimila che poi sono la catena di centomila e quindi sei un vero rappresentante tu rappresenti davvero sei invece e quindi conosci come dicevo prima conosci il dolore delle persone conosci il problema di fondo che avevo io il sabato lo passavo nei mercati va bene la prima volta che sono andato una vecchietta si è afficinata e ha detto io l'ante tu una vute che in piemontese si ritorna a votare perché ha visto un parlamentare che arrivava vuol dire che si vota insomma che andrò abituato dicono non si vota tranquillo così ma il problema più importante sapete qual era? dove fare i pipì perché i negozianti non avevano un posto dove andare a fare i pipì e se stai dalla mattina alle 4 alle 5 una sera qualche volta e i bar non tutti erano d'accordo il caffè costava allora 200 lire mi pare o 300 lire allora costava 100 lire se dovevi utilizzare la toaletta c'erano quelle che avevano messo il gettone insomma sembra da ridere mi occupai dei bagni delle toalette che può essere una sciocchezza ma quella è la pipì dovevano farla in qualche modo ed era un bisogno non era come dire un bisogno strategico l'Europa sarebbe solo vissuto il Giappone la Cina tutti sì però è un problema e la politica deve occuparsi i corpi intermedi devono occuparsi anche dei problemi quotidiani delle persone che così acquisiscono la fiducia perché mi ha risolto un problema che prima non è risolto e quindi io sono in tutto d'accordo con il suo discorso sui corpi intermedi solo che c'è bisogno che facciano in modo da riessere i corpi intermedi altrimenti sono scalaccati da quegli altri no? il sindacato già tiene un po' di più per tanti motivi e così via anche se non più come una volta ma insomma tiene un po' di più la Chiesa Cattolica ha una scarsissima influenza nella cultura italiana ormai è difficile spiegare perché per come c'è una secolarizzazione assolutamente a me è capitato se mi è permesso di dirlo in un dibattito fatto con torivolissima presenza dei vertici vaticani invitò il vescovo di una città italiana mi invitò a fare un dibattito con questa personalità dicevo il giornalista che era un po' un pirla francamente non era all'altezza del divano dice ma secondo lei cosa deve fare la Chiesa Cattolica deve parlare di Dio perché gli ospedali da campo posso fare pure io ma di Dio dovete parlare voi posso mica mettermi io a parlare altrimenti rischiate di essere coinvolti nel processo di secolarizzazione va benissimo aiutare va benissimo fare va benissimo un povero tutto quello che volete però la parola di Dio chi me la racconta chi mi parla di Dio nella nostra società c'è senso anche della vita perché guardate stiamo scivolando su terreni diversi però se mi permettete che senso avrebbe la vita se è finito il conflitto tra il bene e il male che senso avrebbe è tutto deciso che vogliamo avere il diploma alla fine della vita per sapere se possiamo andare in paradiso o no a questo serve la vita per guadagnarsi il diploma o c'è un problema più profondo ma perché hai parlato di alleanza perché nell'ultima cena Gesù riparla di alleanza alleanza su che cosa e se guardate quante volte nella Bibbia e anche nei Vangeli ricorre Satan è il problema dello scontro del conflitto a questo da un senso alla vita noi abbiamo bisogno di Dio forse come Dio bisogna di noi e ora io credo che la Chiesa ha questo tema lo dico con grande umiltà e insomma qualche parola deve dirla su questo su che senso ha la vita come stare da quella parte contro un'altra parte come con tutti quanti le cadute che abbiamo perché lo sappiamo però uno cade e si rialza ecco qui c'è trovo che c'è una necessità ecco questo voglio dire che non riguarda non riguarda l'Unione Europea insomma ma riguarda forse complessivamente la vita di tutti quanti noi io mi occupo da più di vent'anni di cooperazione internazionale per EACLI quindi anche se non direttamente però diciamo così la dimensione internazionale della mondialità è sempre stato un po' il nostro pane quotidiano della ricostruzione anche che ha fatto dei processi di globalizzazione dei limiti che ci sono stati io metterei in evidenza una cosa che non è che c'è sempre stata solo una scelta possibile sarebbero state possibili altre scelte quando si contestò agli Stati Uniti l'intervento in Iraq non era per l'amore al di là dell'aspetto etico sulla guerra o contro la guerra ma che tu mettevi in mano un meccanismo che poi non sapevi quali sarebbero state le conseguenze i pretesti che poi si sarebbero aperti per cui a un certo punto chiunque avrebbe poi potuto intervenire adducendo che faceva la guerra giusta e si potrebbero anche citare altri esempi i limiti della globalizzazione quando si diceva aspettate a far entrare la CIA e la Russia aspettate ad eliminare il GATT quindi sostanzialmente il ragionamento è aver ragione in politica dopo non serve a niente il punto è di capire dal suo punto di vista la sua esperienza secondo lei che cosa ha impedito in questi anni negli anni scorsi di provare a mettere in atto una narrazione un'interpretazione e un'agenda politica che forse è diversa da quella prevalente nonostante gli insuccessi che si stavano determinando guarda raggiungo un argomento dopo il 7 ottobre Biden ha detto offriremo più armi a Israele e che vuol dire non adesso lavori la diplomazia ha detto un'altra cosa adesso facciamo la guerra che va incontro al ragionamento che fa lei se mi raggiunge in Iraq ci fu una spaventosa menzogna che si disse che l'Iraq aveva armi di istruzione di massa si ricorda e quando quel povero come si chiamava il segretario di difesa quello Powell un'altra persona molto per bene che ho conosciuto eccetera parlò nella sala delle azioni unite c'è un particolare che non tutti raccontano alle spalle di chi parla c'è un grandissimo riproduzione di Guernica che Ford regalò alle nazioni unite perché è un arazzo fu oscurato se voi andate a vedere su youtube il discorso di Powell alle spalle c'è oscurato perché si parlava di guerra e non bisognava far vedere Guernica lui fu preso in giro perché era tutto era falso era una scusa per perciò Biden ha detto adesso non fate l'errore che abbiamo fatto noi dopo l'1 di settembre quindi su quello ha ragione però lei coglie perfettamente il tipo di problema nel senso che stiamo vivendo in questi mesi la sconfitta della diplomazia e la vittoria del militarismo il militarismo non ha mai portato di per sé cose buone insomma questo con rispetto per chi fa quel lavoro militarismo aggressivo militarismo come soluzione del conflitto questo voglio dire di questo parlo e però la diplomazia tace e anche questo dato che Netanyahu sta giocando sul suo futuro su quella roba lì che lì sono quattro conti in reggimento di Hamas che bisogna smantellare ma quanti ne ammazzi nel frattempo di persone che non centri niente con Hamas e qui l'altra parte Hamas è stata sostenuta da Netanyahu che favoriva i finanziamenti dei paesi arabi da Hamas così stavano buoni quelli subicati i finanziamenti sono stati cattivi non più buoni quindi c'è una responsabilità anche da questo punto in maniera accolto perfettamente un problema che sono grato io volevo chiederle questo se secondo lei la salvezza dell'uomo rispetto all'intelligenza artificiale sta nel fatto che l'uomo può desiderare amare e anche sbagliare e l'intelligenza artificiale no ve lo chiede la seconda sua esperienza può essere questo grazie ma lei ha perfettamente ragione questa intelligenza artificiale non ha sentimenti mi dicono che la prossima le avrà nel senso sono stati fatti questi esperimenti per cui c'è un processo in Inghilterra per questo una ragazza una ragazza ha il suo avatar che è in uno spazio diverso l'avatar è aggredito sessualmente di un altro avatar maschio la ragazza ha risentito dei sentimenti che il suo avatar tanto che ha denunciato per aggressione sessuale poi non so come stia andando a finire quindi adesso non ha sentimenti probabilmente nel futuro riuscirà da veli quello che per esempio adesso c'è il condizionamento non ancora in commercio ma sia tra poco un tipo di occhiale un po' più spesso di questo forse come il suo che però raccoglie tutti quanti i segni che vengono nella centrale e la condizionano per esempio sui colori la condizionano sul giallo e lei per una settimana mette una cosa gialla addosso anche se è giallo non interessa su un prodotto la Pepsi Cola vi dico per dire e allora lei per un certo compra quello pensi cosa vuol dire dal punto di vista dei condizionamenti poi di consumo di politica di orientamenti e così via però il nuovo l'attuale intelligenza artificiale non ha questo la prossima probabilmente l'avrà c'è un problema di rapporto se mi permette tra intelligenza umana e intelligenza artificiale cioè il bilanciamento quale sarà perché dietro l'intelligenza artificiale c'è un'intelligenza umana che però non ti dice cosa ha fatto c'è il bloc la scatola nera però io credo che quello che noi dobbiamo rivendicare è una padronanza umana delle tecnologie dell'inizio artificiale questa è una questione che è stata posta nell'Unione Europea in questa regolazione di cui sappiamo io voglio riprendere quel tema sulla crisi della diplomazia e collegarlo un po' forse a quell'altro discorso che lei faceva sulla disintermediazione e reintermediazione cioè la crisi della diplomazia è anche forse un sentimento che mi sembra di cogliere anche nelle varie domande cioè in questa difficoltà del confronto e una sempre maggiore quindi tendenza all'incapacità di gestire il dissenso quindi i corpi intermedi ai cui lei faceva riferimento di cui oggi vediamo la crisi e uno degli effetti è proprio questo che non ci sono stanze di compensazione quindi l'unico modo di gestire il dissenso è alle volte lo scontro e vediamo il crescere sempre più affannoso dei conflitti e le risposte sempre più violente che vengono richieste la necessità di maggiore sicurezza il desiderio di alcuni di accettare una diminuzione dei diritti civili a fronte di una maggiore sicurezza ecco quello che mi chiedevo era a fronte della disintermediazione che lei citava prima e quindi della crisi dei corpi intermedi abbiamo visto questa nuova reintermediazione che forse è solo apparente nel senso che c'è un apparente maggiore facilità nel senso che io se voglio raggiungere il mio rappresentante ho il suo profilo twitter piuttosto che o x che si può dire e lo posso gli posso scrivere posso chiamare ma in realtà lo faccio seduto alla scrivania e quindi questa apparente facilità di aggregazione che si crea con le varie bolle eccetera però forse quello che fa a sottratto un po' è la capacità di discutere di approfondire quindi il risultato è questa maggiore superficialità e quindi questa reintermediazione in realtà ha alzato molto il livello togliendo la possibilità di discutere e quindi il confronto non è più solo le idee ma si fa il tifo si fa i fan e questo forse è una delle difficoltà maggiori quindi mi chiedo come possiamo recuperare o inventare nuove forme di stanze di compensazione e quindi anche il coraggio di scendere nuove in piazza che oggi è sempre più difficile ma guardi io penso alla necessità di costituire comunità pensanti noi qui siamo una comunità pensante poi ciascuno ha la sua città il suo indirizzo le sue tendenze i suoi orientamenti le cose che preferisce però qui ecco costruire comunità pensanti impegnarsi a costruire comunità pensanti la comunità pensante è in grado di guardare all'interno del digitale le cose da vedere le cose da buttare via la comunità non pensante gioca sul rancore gioca sul mettere i like mi piace eccetera io credo che è uno dei compiti che hanno i centri di ricerca i centri di riflessione i partiti i sindacati e così via non è andare in piazza va benissimo però poi riunirsi per pensare insieme è una cosa molto importante perché stiamo scambiando idee a me è capitato di parlare di cose che non c'entrano niente con la roba perché ogni tanto mi capita perché la vita non è monodirezionale la vita è poliedrica a tanti aspetti al suo interno di tutti quanti noi quindi io penso che la risposta reale a me pare è di ricostruire la forza del pensiero ricostruire la forza del pensiero io trovo che la cosa importante guardate sono tante iniziative di questo tipo in giro per l'Italia importanti perché si sente la necessità del pensiero si sente la necessità di pensare guardate c'è una una frase dell'Amleto credo che sia la scena terza o quarta all'inizio Amleto è raggiunto dei suoi di alcuni suoi militari che stanno sulle mura del castello che gli dicono guarda che c'è lo spettro di tuo padre che gira e dice ma spettri no tu vieni per piacere domani sera vedrai che lo spettro lui va e lo spettro gli appare e lo spettro del padre dice guarda che io non sono morto morso da un serpente come dice mio fratello e lui che mentre dormivo mi ha versato nel orecchio un veleno per cui sono stato ucciso da lui e mia moglie lo ha sposato immediatamente perché era d'accordo aveva ancora ai piedi le scarpe dei miei funerali quando si è sposata e Amleto risponde il mondo è fuori dei cardini Otto Brinks è fuori dei cardini spetterà mica a me dove lo rimettere in ordine guardate il mondo è fuori dei cardini però spetta la vostra generazione cercare di rimetterlo in ordine perché tutte le scelte che lei giustamente indicava sono scelte guardate la guerra è una scelta facile rispetto alla diplomazia costosa economicamente moralmente umanamente figuriamoci ma è la più facile fai la guerra gli uti potevano benissimo come dire in qualche modo trattare il passaggio ma l'Iran ha interesse a colpire gli interessi israeliani e allora sono usati al fine di queste operazioni c'è un articolo oggi o ieri forse ieri sulla stampa di Stefanelli che è un ex ambasciatore bravissimo dove spiega cosa sto dicendo e questa è la fine della diplomazia le guerre sono la fine della diplomazia anche perché la diplomazia deve comunque intervenire dopo ma dopo è difficilissimo perché ciascuno ha assunto le sue posizioni e nessuno vuol cedere in quella parte del mondo tu c'hai ho dimenticato di citare l'Iran l'Iran è parte di questa alleanza Turchia Cina Stati Uniti compagna bella l'Iran vende alla Russia i propri droni non è cosa la poco insomma volevo mettere in connessione il tema delle comunità pensanti o dei corpi intermedi con l'Europa perché da tutto il ragionamento si capisce che senza comunità intermedie non c'è resistenza all'invadenza dell'intelligenza artificiale non c'è possibilità che i partiti siano realmente democratici perché non c'è pensiero però l'Europa è costruita sull'indimenticanza istituzionale delle comunità intermedie perché io molto banalmente io posso ricostruire devo ricostruire il nesso partiti italiani con le realtà intermedie ma l'ingegneria istituzionale dell'Europa è tale per cui non esiste e quindi come visto l'importanza dell'Europa perché qui non è semplicemente ritornare ai trattati iniziali qui è un problema di ripensare perché alla fine anche il punto di rappresentanza unico in cui noi possiamo incidere il Parlamento europeo comunque sia è dimezzato rispetto agli stati e cose quindi come si possono connettere i due temi avevo saltato un passaggio mi sono conto che parlavo troppo Giorgio è posto un problema molto importante ti ringrazio a mio avviso i corpi intermedi sono gli stati nazionali sono gli stati nazionali che fuggono il collegamento tra Europa e comunità nazionale non so se è chiaro perché se gli stati nazionali fanno questo raccordo sconfiggendo il nazionalismo a quel punto tu hai che davvero la comunità nazionale partecipa perché è informata se i partiti facessero l'operazione dello stesso tipo di discutere di quello che sta accadendo tu avresti in sede nazionale una serie di raccordi che poi portano in Europa alcune cose l'Europa è stata costruita come Europa di governi all'inizio e tutto quello che anche il Parlamento eccetera il Parlamento europeo poi il voto è sentito come un voto libero un voto che dai sulla base di questioni nazionali in genere non dai sulla base di questioni europee tu hai perfettamente ragione io penso che lo stato è stata concepita senza corpi intermedi sono d'accordo con te quello che è vero che a volte sono finanziate organizzazioni eccetera ma sono organizzazioni che non fanno granché quello che ritengo sia importante invece è che gli stati nazionali si assumino il compito di tenere relazioni e rapporti tra ciò che avviene nell'Unione Europea e ciò che deve avvenire nel nostro paese anche una domanda veloce lei diceva prima giustamente che l'intelligenza artificiale e soprattutto che le grandi compagnie Amazon eccetera Facebook soverchiano individui e governi la domanda veloce ma complessa è come può la politica come possono gli stati recuperare terreno rispetto ad un possibile condizionamento di queste società io penso ad esempio al covid in Italia si è impazziti si sono fatte nuove app per conoscere i dati questi avevano tutto probabilmente perché non si è potuto trovare un collegamento per avere un supporto in una situazione del genere e soprattutto come può la politica tornare a governare anche questi processi grazie guardi io vorrei riprendere una parola in disuso che è la pedagogia bisogna insegnare ad usare questi strumenti noi stiamo facendo come fondazione un lavoro di questo genere sono due scuole si chiama pedagogia digitale cioè insegnare partendo dai ragazzi degli elementari e delle medie inferiori insegnanti e se possibile genitori perché il problema è quello dei genitori guardate che ti mettono l'apparecchio in mano così non rompi le scatole per due ore insomma questa roba qui non sul digitale di adesso ma su quello che troveranno tra 4-5 anni insegnandogli che cosa succederà come potranno usarlo positivamente come potrebbero essere danneggiati facendo pedagogia io credo che soltanto una maggiore conoscenza dei vantaggi e dei rischi anche i vantaggi e dei rischi che si corrono può andare incontro alla cosa che dice lei perché se utilizziamo passivamente questi strumenti il rischio è quello che dice lei se invece tu hai soggetti che come dire decidono come usare non come essere usati i problemi cominciano a cambiare entra in campo la politica e la politica deve entrare in campo non come soggetto regolatore ma come soggetto la cosa è un po' così come soggetto morale lo so che la parola è un po' impegnativa come soggetto che è un'etica è l'etica rendere liberi le persone chi sta dentro soggetto non è libero in un'altra ricerca che stiamo facendo che riguarda 800 ragazzi che stanno salendo ai quali chiediamo cosa pensano del loro futuro adolescenti ragazzi che vanno dai 12 ai 15 anni ragazzi e ragazze è interessante che c'era chiesta questa ricerca l'expo di Osaka perché vuole esporla lì per fare un paragone tra quello che pensano i propri adolescenti gli adolescenti italiani un campione naturalmente e quello che pensano quelli giapponesi e fare un confronto ed è interessantissimo che molti usano il il web 3.0 non parlo di metaverso il metaverso è uno è come dire Fiat che non vuol dire automobile vuol dire quel tipo il metaverso è quello di Zuckerberg non è quello che io parlo di 3D lo usano col gaming giocando ma non sanno che cos'è e non sanno che tipo di riflessi è questo come loro trasmettono i loro dati ogni volta che accendono e giocano su questa roba un ragazzo di questi ci ha detto scusate prendo un po' d'acqua un ragazzo di questi ci ha detto che lui stava 10-12 ore al giorno a giocare si chiudeva nella stanza metteva il letto contro la porta in modo che nei padri e la madre potevano entrare usciva solo per andare in bagno e per mangiare e basta poi ha avuto una crisi epilettica ha spiegato ha capito che gli faceva male sta riducendo ora sono 5 ore che mi pare da 10 a 5 è comunque una riduzione quindi come dire c'è anche io credo che sia importante molto spingere non sul divieto ecco ma sulla cosa puoi avere di utile come ti può servire e come invece non ti deve servire capita a volte mi è capitato che un mio allievo all'università mi ha prestato una tesi copiata da chat gbt presa me ne sono accorto un po' per caso un po' che ho visto che la lingua era troppo stereotipata insomma come tipo di cosa l'ho chiamato e ho detto guardi questa cosa l'ha copiata ha sbagliato siccome tutti quanti possono sbagliare adesso devi fare una cosa su questa base faccia la sua tesi questa è una base quante volte noi consultiamo google eccetera per avere alcuni dati e poi ci lavoriamo sopra lei ha fatto l'errore di non lavorarci è capitato con uno che un po' queste cose le conosce quindi se ne è accorto però adesso faccia ci lavori su e dopo ci ha lavorato ha fatto una buona tesi dopo il problema non è tanto la sanzione l'umiliazione hai copiato non ti accetto la tesi eccetera cercare di fare in modo che quello cresca sull'errore questa è pedagogia aspettate non gira pazienza allora visto che c'è qualcuno che ha bella bottiglia non so se c'è altro allora facciamo così leggo velocemente sono tante le domande io le leggo tutte poi magari no no lega una per una altrimenti me ne perdo poi rispondo brevemente ecco ok allora Dalle Marche ha parlato delle tecniche di riconoscimento biometrico non crede che l'uso sempre maggiore di queste tecnologie rappresenti un tentativo di controllo sociale da parte dei governi nazionali sui cittadini e nello specifico in Cina c'è il rischio di mettere in serio pericolo gli ideali e i valori di una società democratica governata dallo stato di diritto nonché la stessa dignità umana mediante l'uso di sistemi di riconoscimento facciale dunque riprende dipende dipende da chi accede a quei dati se i dati come in democrazia posso accedere soltanto io che li ho perché io ho la chiave per accedere nel senso che tenga presente che ciascuno di noi è riconoscibile per il padiglione auricolare per il battito cardiaco per il colore dell'iride per la circolazione sanguigna è un quinto elemento che mi sfugge per cui soltanto se di fronte alla macchina ci sei tu la macchina ti risponde altrimenti non risponde e quindi questo questo non accade in Cina dove il riconoscimento facciale in realtà è una pratica in balza in Italia è vietata in Europa è vietata tranne che per case di sicurezza di contro la criminalità eccetera quindi io credo che il problema c'è se l'accesso è generalizzato se l'accesso è soltanto al titolare il problema non si pone la politica locale i cittadini i territori che contributo possono dare in questo scenario complesso tra parentesi ci si sente impotenti innanzitutto studiare ma studiare guardate è un'attività importante nella vita studiare vuol dire conoscere bisogna impegnarsi a conoscere siamo di fronte quando c'è l'automobile va bene tu impari a guidarla non è che ti metti sopra e cammini impari a guidarla cerchi la guida bene a chi la guida male ma insomma si impara devi imparare a utilizzare l'interesse artificiale che non è automatica come cosa la pedagogia digitale ha questa funzione non solo per i ragazzi ma anche per gli adulti sapere come usarla sapere che cosa ci trovi cosa non ci trovi e così via insomma occorre considerarla uno strumento è più che uno strumento il digitale è un ambiente tu entri in un ambiente e quando devi entrare in un ambiente nuovo devi sapere cosa c'è in quell'ambiente nuovo altrimenti ti fai male perché ti crea un sistema di relazioni talmente vasto che si è affascinato da questo però prima di entrare in una stanza al buio tu cerchi di accendere la luce e capire dove stanno i mobili però non ci appare molti entrano in intelligenza artificiale senza sapere dove vanno ecco io credo che c'è bisogno invece di di sapere dove si va e quindi di avere una forma avere una formazione all'uso dell'intelligenza artificiale specie di queste ultime forme che sono molto più sofisticate rispetto alle prime bene io direi che possiamo forse signore ok poi ricordatevi che avete alle due riprendiamo ecco lei ha parlato molto di guerra e quindi di difesa non ha mai usato la parola pacifismo la esclude come strumento politico guardi io non sono un pacifista mi scusi nel senso che credo che il pacifismo è una forma ideale pagata da qualche altro o il pacifismo è globale e questo purtroppo non è possibile oppure è una buona posizione intellettuale che intanto sta in piedi intanto qualcun altro pensa alla sua sicurezza in questo senso mi è capitato capisco che non è politicamente corretto chiedo scusa ma non mi sento pacifista perché so quanto è importante avere un sistema di difesa che poi non bisogna essere militaristi sia ben chiaro non bisogna essere violenti non bisogna aggredire bisogna avere un uso razionale del rapporto stato cittadino su questo siamo d'accordo ma il pacifismo che io rispetto naturalmente come parola d'ordine qualche volta trascura il fatto che qualcuno della sicurezza deve occuparsi nel senso che una volta che la Russia ha attaccato l'Ucraina una volta che la Russia sta attaccando la Moldavia adesso che Russia e Cina stanno cercando di condizionare attraverso i social eccetera naturalmente c'è poi una risposta su questo se ben chiaro che non è pacifista è una risposta che vieta l'accesso ad alcuni strumenti come cocodri e l'altro di entrare su queste cose che è una risposta anche diretta inquinare l'informazione in Russia non è che siamo dei angeli non ce ne sono qua dentro ognuno fa il suo gioco quelli lo fanno un po' meglio un po' più spregiudicatamente almeno sinora quindi c'è un gioco di questo tipo però devo dirle sinceramente siccome non ho nessun motivo per mentire o per farmi più bello io il pacifismo lo rispetto lo capisco non lo condivido perché per mia abitudine nella mia vita politica e privata ho capito che ci vuole qualcuno che difenda la tua sicurezza se non c'è qualcuno che difende tu puoi fare il pacifismo l'abbiamo fatto per tanti anni e spese negli Stati Uniti tanto c'erano loro che ci difendevano adesso la cosa non è più possibile quindi dobbiamo guardare come conciliare le politiche pacifiste con le politiche della sicurezza di essere sicuri di poter essere pacifisti ecco se mi può permettere questa espressione senza che questo comporti l'indebolimento della difesa del nostro paese bene presidente Violante siamo arrivati alla fine di questa mattinata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti